Vittoria 101-1 per l'Unione Europea Fornì sulla Bandela Euromaschetta Europa. Già venite i 12 punti di 13 fatti, 9, 1, 11, non lasso, 9 sfida, 15 carron, 29, 30. Per fornì 23 punti di rasse, migliorizzatore 16 per Zocchetti, 2 natali, 5 bullpinnere, 18 lucas, 13, 14, 15, non lasso. Ricordandovi il cuore che c'è il nome, non c'è bisogno di un tira rispettante per il mio anno, su cui avete trovato posto, c'è lato strada o lato mare. Vi ringraziamo per la partecipazione, per avere accessito alla quinta vittoria consecutiva di Fornì. Vi ringraziamo, vi attendiamo per l'ultimo appuntamento della prima fase, stati fatto il nuovo gioco contro Ravenna. Grazie a tutti, buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.